Messaggio di venerdì 19 marzo 2021 Fratelli, sorelle, sono Lucia di Fatima, anche i miei cugini sono qui. Noi vi parleremo del futuro dell'umanità. Noi conosciamo quello che dovrete affrontare. Io sono qui per farvi ascoltare ancora cose forti che vengono dal cielo. Discorsi che il mondo non conosce e che non è interessato per il momento. I discorsi che vengono dal cielo sono quelli che vi portano a fare le scelte giuste. E molti continuate ancora ad ignorare Nostra Signora che vi parla e che vi guida verso la salvezza. Nostra Signora, creatura creata da Nostro Signore per tutti noi figli. Dobbiamo essere grati a questo immenso amore da parte di Nostro Signore. Lei è con lei che ci consola, aiuta tutti, buoni e cattivi. Non smette mai di pregare per i poveri peccatori e vuole che lo facciate tutti. Penitenza, 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 ci disse l'angelo. Dita al mondo che deve fare penitenza affinché si purifichi, perché presto arriveranno momenti molto difficili per la Chiesa e per tutto il mondo. Nostro Signore porterà tutti sul suo calvario, donando sulle spalle la croce che porta la salvezza. Accettatela con tanto amore. Non conviene non accettarla, perché il male è lì accanto a voi. Lo ha fatto anche con me. Brutte proposte affinché io rinnegassi. La menzogna è la prima cosa che dovete rinunciare a costo della vita. Io insieme a Giacinti e a Francisco abbiamo temuto di perdere la vita, ma Nostra Signora era il nostro obiettivo. La Chiesa non insegna più i veri valori, facendovi credere che tutto è concesso. Non è così. Il mondo sta pagando per i suoi errori e le sofferenze non sono finite. Presto tornerò a parlarvi. Prendete sul serio le cose che vengono dal cielo e insegnatelo, perché è vostro dovere a tutti quelli che vi circondano a pregare affinché si ravvedino. Il vostro cambiamento vero li condurrà a pregare. La santità si potrà respirare soltanto nei luoghi dove c'è preghiera, dove si mette in pratica la legge di Nostro Signore. Adesso devo andare. Siate pronti sempre. Nostra Signora ci benedice tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nostra Signora è con me e con voi. Grazie. Grazie.